Beh direi che parlando di infrastrutture possiamo certamente parlare di una giornata positiva per il territorio spezzino e di infrastrutture in generale anche per le progettazioni che abbiamo affidato a dire non solo a livello infrastrutturale ma anche come priorità di difesa del suolo abbiamo per la provincia della Spezia affidato l'incarico come avevamo promesso a tutti i cittadini e alle amministrazioni interessate affidato il primo lotto esecutivo per la messa in sicurezza della RIPA siamo pronti a finanziare quell'opera per realizzarla entro la fine 2018 già con risorse messe a disposizione di bilancio e soprattutto abbiamo anche valorizzato quello che è l'aspetto turistico della nostra zona cercando di dare un supporto al Parco Nazionale delle Cinque Terre per fare uno studio più approfondito sull'attuale situazione del sentiero Manarola-Corniglia credo che siano per la provincia della Spezia progettazioni molto importanti sia a livello infrastrutturale ovviamente oggi è una giornata molto positiva perché da qui inizia un percorso per la vera costruzione dell'ospedale dopo tante inaugurazioni mancate credo che siano sfide molto importanti che questa giunta ha già dimostrato di saper cogliere positivamente di portare in fondo e soprattutto di raggiungere dei risultati ormai questa è la vera differenza fra le amministrazioni che portano a casa dei risultati e quelle che invece ovviamente magari lasciano sul campo dei progetti che poi non vengono portati in fondo grazie